Nella Valle dell'Acqua Bianca di Gorfigliano tutto ricorda ciò che è stato, è e sarà, il mondo duro e faticoso, talvolta tragico, del cavatore. Ed è per questo, anche per questo, per ricordare e non dimenticare, tramandare, come suol dirsi i posteri, che nella mente e nell'orgoglio dei gorfiglianesi nacque l'idea di allestire un vero e proprio Parco del Marmo, un piazzale ampio nel quale ripercorrere in modo semplice ma anche dettagliato il modo di estrarre i bianchi blocchi dalla montagna, come trovarli sul posto e poi trasportarli verso valle. Lavoro antico ed arduo e intriso di fatica e sudore e che ci riporta indietro nel tempo, fino agli anni 60 e 70. Dal 2006, la seconda domenica di agosto, il lavoro del cavatore, come era in quei tempi, viene riproposto anche ai visitatori che cercano aria fresca e relaxa ai 700 metri del piano di Gorfigliano. Nel dettaglio è possibile rivivere le varie fasi dell'estrazione del marmo, che allora avveniva tramite l'uso del file di coedale, poi soppiantato dal filo diamantato e da altri macchinari, che scorreva e tagliava grazie ad acqua e sabbia, che il cavatore non doveva mai far mancare. Altro particolare suggestivo era quello della lizzatura, con cui i blocchi venivano trasportati a valle, così come la quadratura del blocco, che veniva fatto con mazzolo e subbia, centimetro dopo centimetro dai cosiddetti quadratori. Oggi, nel 2015, a riproporre quei momenti del tempo che fu, del tempo andato, i vecchi cavatori che sul monte hanno trascorso una vita e che per qualche minuto fanno e ci fanno fare un tuffo nel passato. Quasi un ideale viaggio nel tempo a raccontare di un lavoro e di un'arte antica, mai dimenticate da tramandare i posteri, cavatori allora, cavatori oggi, cavatori per sempre. Per questo parco dobbiamo ringraziare una persona che non è più qui tra noi, Cesare Brugiat, il CE, storico capocava della cava Bianco Campaccio di Gorfigliano. Fu lui, nel 2006, a farmi questa proposta e a coinvolgere tutti gli amici che oggi vedete qui, dicendo dobbiamo salvare la memoria dei cavatori storici di Gorfigliano. Grazie a tutti.